Lo scorso anno sono stati 600 i bambini che si sono recati in un pomeriggio agli arconi di via Baldassini a Gubbio per donare i propri giocattoli usati, oltre 2000 ai balocchi in buono stato raccolti e donati alla Caritas. È così che Confesercenti di Gubbio, che nel 2012 aveva lanciato la campagna Rigiochiamo, ovvero Ricicliamo i giochi usati per donarli a chi non ne ha, quest'anno ci riprova con una seconda edizione che si terrà domenica 15 dicembre, sempre presso gli arconi di via Baldassini. Confesercenti sarà ospite della Tre Giorni di Alchimia, la maratona dedicata ai giochi da tavolo, che ha accettato di condividere gli spazi con Rigiochiamo nel comune spirito di fare qualcosa per i bambini e le famiglie più indigenti. È così che dalle 15 alle 19.30 di domenica prossima i bambini potranno recarsi in via Baldassini per donare il gioco che non usano più, purché in buono stato, ricevendo in cambio un attestato di bontà rilasciato dall'Associazione degli Esercenti. L'invito rivolto stamani in occasione della presentazione dell'iniziativa dal presidente di Confesercenti Gianfranco Urbani è quello di partecipare numerosi per un gesto di solidarietà che lo scorso anno, in larga parte, ha consentito a tante famiglie ugubine tramite la Caritas di poter regalare al proprio figlio un gioco per Natale, a dimostrazione che la povertà è sempre più vicina di quanto si pensi. Oltre alle esigenze locali però, la raccolta di giochi guarda anche ai bisogni di bambini fuori dal confine nazionale. Lo scorso anno un quantitativo di Rigiochiamo è arrivato in Kosovo, quest'anno andrà in Amazzonia alla Casa Damae gestante costruita da due missionari cappuccini originari di Gualdo Tadino ed intitolata alla memoria di una signora gualdese prematuramente scomparsa, Ivana Monacelli, che accoglie mamme con i loro bambini fuggite dalla povertà e dalle violenze domestiche. Confesercenti nel suo impegno ha trovato la collaborazione anche delle istituzioni scolastiche del territorio per sensibilizzare bambini e famiglie e lancia l'invito per domenica prossima. Aspetto i bambini che sono più buoni nell'ambito del Natale a donare un loro giocattolo dismesso in buono stato ad altri bambini che invece ne hanno veramente bisogno.